Appuntamento con l'arte contemporanea a partire da giovedì 17 dicembre in Campania con Contemporaneamente. L'iniziativa consiste nell'apertura di una maxi mostra collettiva di oltre 30 spazi per l'arte contemporanea campani che nei giorni 17, 18 e 19 dicembre apriranno le loro porte con l'intenzione di dare un segnale di forte coesione e per celebrare la vivacità della cultura contemporanea sul territorio regionale anche in questo momento di delicata pandemia. Una prima edizione che rappresenta il tentativo di consolidare l'offerta culturale con l'appoggio delle principali istituzioni cittadine come il Museo Madre, la Fondazione Made in Cloister, Fondazione Morra, Fondazione Morra Greco, Fondazione Plart. Tra le gallerie che apriranno le proprie porte ci sarà Art 1307 di Cinzia e Renato Penna con Restart, poi la galleria Ingenito, Spazionea, Daphna e Umberto Di Marino e tante altre ancora. Ai nostri microfoni abbiamo ascoltato Andrea Ingenito che sottolinea. Ho riflettuto e pensato a lungo a qualcosa, un'idea, un progetto che ci potesse dare l'opportunità di dare un segnale di ripartenza. Ed è così che ho proposto questa idea a degli amici e a dei colleghi, quale Cinzia Penna, Corrado Folini e della Galleria Cappella, Luigi Sorito, Danilo Ambrosino di Daphna, con i quali c'è stata subito una condivisione che vuole portare avanti questo progetto di un'opera di un collettivo. A quel punto ho coinvolto un mio caro amico Umberto Di Marino, di esperienze ampie e consolidate, che ci ha dato la possibilità di ampliare questo progetto, di coinvolgere Federica Sciano e della Galleria Thomas Dane e di strutturare la cosa in modo tale che a poco a poco ha coinvolto tutte le gallerie, non solo di Napoli ma dell'intera campagna, con il sostegno pieno di museo e di istituzioni culturali. È davvero tutto, grazie per essere stati con noi, una piacevole serata, continuate a seguirci. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS